bar storia storia di storia nel tempo di una birra un podcast di riccardo pinto e costantino bentornati a bar storia io sono riccardo qui con me c'è il califo di piazza bologna costantino ciao costa bentornati a tutti ciao ric grazie per avermi concesso questo altissimo titolo anche tra l'altro molto a di fuori delle zone di mia competenza quindi mi fai conquistatore ecco è giusto è giusto questo questa puntata parliamo di conquiste quindi insomma mi sembrava più che appropriato prima di partire con il secondo episodio in cui tratteremo un pochino l'espansione islamica nella sua prima fase sapete che in questa serie tratteremo il medioevo islamico almeno una parte di esso fammi ringraziare i nostri sostenitori su patreon che insomma come sempre ci supportano se non sapete se non lo sapete potete supportarci anche voi con un abbonamento di patreon in uno dei vari tier che abbiamo alcuni prevedono anche l'ascolto di puntate extra merchandising insomma se vi piace quello che facciamo è un buon modo per supportarci detto questo io partirei da dove ci siamo lasciati ci siamo lasciati alla morte di maometto nel 632 con una situazione poco chiara sulla successione perché maometto non aveva lasciato indicazioni il risultato qual è come sempre le fazioni che rappresentavano il potere in questo caso vicino al profeta iniziano a muoversi per capire chi metterà al suo posto quali sono queste fazioni perché sarà importante anche per gli anni successivi capire di chi stiamo parlando la prima è rappresentata dai compagni di maometto quelli che assieme a lui erano fuggiti dalla mecca per capirci nell'evento delle gira che abbiamo visto la scorsa puntata che segna l'inizio del calendario islamico quindi comunque qualcosa di importante perché segna l'arrivo nella città di medina coloro che si erano schierati con lui nella città di medina stessa e i gruppi di potere della mecca tutti quegli appartenenti alla tribù dei cura ish che per la maggior parte erano convertiti di recente ma che sicuramente rappresentavano delle famiglie aristocratiche influenti viene quindi indetto un consiglio e stranamente ci si riesce a mettere d'accordo tra gli appartenenti al primo gruppo quindi i suoi compagni viene scelto abu bakr una persona imparentata con maometto perché la sorella aisha era sposata proprio con maometto per ricoprire il ruolo di un titolo che diventerà importantissimo negli anni futuri un titolo che si chiama califat rasul allah ovvero successore dell'inviato di dio il primo califo per l'appunto una cosa importante da capire il califo non è un profeta in che senso nel senso che non ha alcun legame divino quindi non si può dire che parla per conto di allah quindi per capirci non può modificare la fede dicendo a un certo punto di aver avuto una verità rivelata è semplicemente un capo della della comunità musulmana chiaramente è un capo molto influente e in quanto tale deve avere spiccate virtù morali che si chiamano fada il in arabo doveva inoltre essere convertito all'islam da molto tempo quindi insomma non una persona che si è convertita ieri per capirci e conoscerne approfonditamente i dettami questa informazione ci tornerà utile dopo insomma abu bakr viene eletto califo e si trova davanti un problema molto concreto alla morte di maometto infatti tutte le alleanze le conquiste da lui fatte rischiano di dissolversi come neve al sole perché sappiamo come va quando c'è un cambio di potere senza ieri stabiliti no e nonostante la velocità con cui la comunità comunque ha scelto il successore la sua autorità non era affatto percepita come forte anche se abu bakr era una persona comunque molto stimata all'interno della comunità per capirci poi non parliamo di un territorio piccolo di qualche villaggio parliamo di un territorio che di fatto corriva quasi tutta la penisola araba dopo la morte di maometto la risposta fu immediata e passò ovviamente attraverso una guerra la cosiddetta guerra della ridda cioè tutte quelle tribù che si rifiutavano di pagare la decima a medina e che cercavano di ribellarsi e di uscire da quella che i musulmani chiamavano la umma cioè la comunità dei fedeli protagonista di queste guerre diciamo queste espansioni anche poco successive che poi tratterà anche costantino dopo di me che durarono dal 632 al 634 è il generale del califo calid ibn al walid che in passato pensate si era scontrato in realtà con maometto nelle prime battaglie che aveva fatto in quella fase immediatamente dopo la fuga verso medina ma che poi si era convertito ed era entrato nelle grazie del potere islamico tanto che lo stesso maometto gli aveva dato il titolo di saif allah cioè la spada di dio calif era nato anche lui alla mecca e apparteneva a una tribù dei cura ish che si opponeva inizialmente a momento tanto che come abbiamo detto è sceso in guerra contro di lui lui conosceva della religione aveva soprattutto delle spiccate abilità militari e una certa intraprendenza tanto che in queste guerre non rispondeva esattamente ad abu bakr ma sembra che per citare uno storico che a parola di lui lo storico shaban sconfiggesse tutto ciò che c'era da sconfiggere quindi insomma una persona che diciamo andava un po' per conto sua iniziarono così le prime conquiste che poi proseguiranno con quelle che insomma ci racconterai tu costa e che spingeranno i confini del dominio dei califi ben oltre la penisola araba ma in quegli anni la successione dei califi è piuttosto veloce alla morte di abu bakr che avviene nel 634 quindi solo due anni dopo la salita di abu bakr viene eletto umar un altro appartenente agli antichi compagni di momento quindi la prima fazione sempre e siamo a due sotto umar c'è una vera e propria spinta militare tanto che lui enfatizzerà questo aspetto dandosi il titolo di principe dei credenti umar si era anche organizzato per dare una certa struttura al nascente enorme potere che i califi si sarebbero trovati ad amministrare ad esempio prevedendo dei premi in denaro per i combattenti per l'islam ma soprattutto crea un consiglio appositamente per eleggere il suo successore una cosa che si rivelerà utile dieci anni più tardi quando morirà assassinato dopo aver ampliato enormemente il territorio del califato il consiglio infatti riuscirà ad essere diciamo attivo ed eleggere ad eleggere utman ibna fan non più stavolta tra gli ex compagni di momento quindi quelli della prima fazione ma tra i membri dell'aristocrazia dei cura ish quindi della mecca la terza fazione che abbiamo menzionato quando le abbiamo dette all'inizio e ovviamente chi è che secondo voi si lamenta ovviamente la seconda fazione quelli di medina che non ci stanno essere esclusi insomma per la terza volta dal potere in un primo momento sembra che utman possa ricomporre lo strappo ma non è così alla prova dei fatti perché si mette a nominare come governatori tutti i membri del suo clan e aiutarli anche in maniera fiscale quindi insomma privilegiarli in tutto e per tutto vagamente nepotista diciamo sì 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 si fa un po i suoi i suoi affaritti diciamo le cose precipitano quando la ribellione sfoce in una lotta violenta e nel 656 a medina grazie all'aiuto di alcuni soldati egiziani viene fuori insomma viene diciamo intercettato in casa sua e viene fatto fuori peraltro insomma particolare abbastanza triste davanti agli occhi delle mogli che devono vederlo decapitato ecco non una scena particolarmente interessante a questo punto c'è la svolta potremmo dire la tensione ormai avuto assunto delle proporzioni incontrollabili e il gruppo di medina nomina califo ali ibn abi talib il cugino e genero di maometto e a causa del matrimonio che aveva contratto con fatima ricordatevi questo nome di fatima perché sarà importante nelle prossime puntate che però non viene riconosciuto da tutti in particolare muawiyah che è il figlio del cugino del precedente califo utman è tutto diciamo tutto in famiglia ragazzi le famiglie contano esatto si ribella quindi abbiamo ali ibn abi talib contro muawiyah e viene a sua volta muawiyah ovviamente proclamato califo quello che può sembrare insomma un regolamento di conti in famiglia per il potere in realtà è molto di più e sarà molto importante per il futuro perché ci preannuncerà due diverse idee di slam che andranno a scontrarsi da una parte infatti chi credeva che il potere dovesse rimanere a chi aveva legami di sangue con maometto quelli che in futuro saranno la fazione degli sciiti dall'altra che invece credeva che bisognerà bisognava essere più pragmatici e dare insomma il potere a chi poteva in qualche modo portarlo avanti quelli che sarebbero stati in futuro i sunniti il primo scontro avviene in quella che si chiama la battaglia del cammello a bassora nell'odierno iraq nel 656 dove ali sconfigge una sorta di dissidenti interni guidati da una vedova di maometto a isha in una scena molto fantasy lei si trovava pensa in un baldacchino ad assistere allo scontro sul campo di battaglia un baldacchino nero che però a un certo punto viene colpito da una freccia lei cade a terra in uno scontro che poi le sue forze simbolicamente diciamo alla fine perdono lo scontro reale però tra le due fazioni all'inizio era solo ali contro i suoi oppositori c'è nel 657 a siffin con uno scontro duro nei pressi dell'eufrate che era talmente duro e importante che non vedeva a un certo punto nessun vincitore le due parti iniziano un po a tentennare alla fine decidono di incontrarsi per cercare una mediazione e rimettere in mano ad un consiglio la scelta su chi dovesse essere eletto califo ironicamente questo del via a un'altra corrente costantino che dice no solo dio può scegliere chi è chi sarà il nuovo califo con la battaglia questo consiglio noi non ne riconosciamo l'autorità non sappiamo cos'è ed è così che nascono i cari egiti quindi una nuova corrente che incontreremo anche più successivamente a un rolder vero ci sono anche dei dubbi storici su questo avvenimento ed è tutto un po oscuro su questo periodo fatto sta che comunque ali viene giudicato colpevole dell'assassino di utman il precedente califo e tutto il suo fronte si indebolisce a tal punto che è costretto a ritirarsi e nel 661 pochi anni dopo verrà ucciso a cufa proprio da un cari gita ma i suoi parenti la daranno da vendere diciamo in futuro sarà sarà lunga storie di lunghe lunghi rancori familiari esatto 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 con l'elezione di muawiyah si chiude un'era quella dei califi che vengono detti i ben guidati cioè i rashidun e inizia un periodo in cui il califato diventa praticamente ereditario non nella forma in realtà perché comunque non era permesso bisognava sempre avere questa accettazione da parte della umma della comunità però nella sostanza alla fine lo diventa la umma quindi aveva perso un po la sua unità ma era diventata enorme in questi anni rispetto al tempo di maometto con delle conquiste veramente illustri costa assolutamente sì riccardo perché questo insomma ci riporta un po indietro tu sei andato no alla fine del periodo diciamo dei quattro califi noi ritorniamo invece nel bel mezzo di questo perché perché a seguito della morte di momento e poi dell'elezione di questi primi di questi primi califi si assiste a una spaventosa velocissima conquista di territori da parte effettivamente della umma no dei insomma degli arabi che erano appena nati praticamente perché soprattutto due tra questi califi insomma arrivano a conquistare un'enorme fetta di territorio tu hai detto benissimo il primo sicuramente tra i più importanti è umar ne hai parlato che regna dieci anni ed era un califo che amava diciamo soleva dirigere le sue campagne militari direttamente da medina oppure da un campo di addestramento lì vicino da dove insomma diramava le sue le le sue volontà però quello che è importante è che umar praticamente da pieno sfogo a questa energia no che che gli arabi avevano di promulgare la jihad e di portarla più avanti possibile di conquistare più territori possibili e in effetti questa questa spirito iniziale è alla base di tutte queste incursioni che gli arabi fanno in palestina in siria e tra l'altro che porteranno tutti quei territori e tutti quei grandi centri che erano in mano bizantina a cadere uno dopo l'altro nel giro di pochissimi anni cadono anche e soprattutto perché non se la passava bene la popolazione di quei territori ovvero erano è vero sotto la leggi da no dell'impero bizantino ma lo sentono molto lo avvertono molto lontano in più sono genti che non sono propriamente cristiane non sono state no cresciute in in quella in quella dinamica ma in un certo senso iniziano in realtà a subirla soprattutto perché in questo periodo c'è il patriarcato del bosfo insomma di costantinopoli che pretende che in tutto il territorio dell'impero viene accettata questa dottrina trinitaria bizantina ed era odiosa per quelli che erano cristiani all'epoca insomma nel posto però che erano copti che erano insomma monofisiti è una lunga descrizione che non faremo noi no credo che marco nel suo podcast abbia fatto una puntata intera dedicata alle varie alle varie identità di dio no insomma magari la mettiamo nel nei consigli nei consigli poi scritti per di più oltre a tutto questo discorso religioso c'era anche una pressione fiscale che da costantinopoli era enorme mentre invece quella che potevano esercitare gli arabi in quel periodo era molto più bassa e quindi porta in un certo senso queste popolazioni a favorire l'invasore piuttosto no che 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 chi regnava tutte queste problematiche insomma fanno comprendere al buon eraclio che è l'imperatore di costantinopoli che bisogna fronteggiare questa minaccia ed effettivamente lui si trasferisce ad antiochia in siria nel 636 per costruire un'armata di insomma di proporzioni formidabili e che però ancora tra l'altro contava di numerosi contingenti arabi cioè di tutte quelle popolazioni arabe che vivevano in quei territori ormai conquistati dall'impero bizantino no abbiamo parlato l'antico regno dei nabatei che era diventata una provincia romana e che vivevano da molto tempo sotto questa sfera ovviamente l'obiettivo era chiaro era di andare lì e dimostrare subito a questi nuovi a questi novellini appena arrivati chi è che comanda insomma sbaragliare completamente il nuovo esercito umar chiaramente non ha per niente motivazione di farsi prendere dal panico e quindi mobilita questa propria volta un esercito il più grande esercito di cui poteva essere capace al punto che molti punti già conquistati rimarranno sguarniti no di uomini perché insomma tenta il tutto per tutto per andare a conquistare quindi anziché approfittare il riparo offerto no da queste piazza piazza porti che avevano già conquistato preferiscono invece andare ad attaccare battaglia per sfruttare la loro superiorità dal punto di vista della cavalleria erano cavalieri molto abili e quindi sotto il comando di Khalid quello che hai già citato tu andavano a fare tutti attacchi a queste posizioni bizantine attacchi rapidissimi seguiti da ritirate nel deserto altrettanto rapide e molestavano il nemico lungo il fiume Yarmouk che era un affluente del giordano quindi comunque siamo in quella zona lì no del medio oriente che aveva un corso che passava all'interno di gole desertiche molto molto profonde e rocciose i bizantini a questo punto hanno difficoltà di approvvigionamento perché il loro stratego si aspettava che gli arabi visto l'esercito che potevano mettere in piazza sarebbero scappati e invece gli arabi non ci pensano proprio a fare questa cosa anzi voleva effettivamente no pensava di trovare un popolo disunito insomma un esercito disunito da compromettere pezzo per pezzo e portare dalla propria parte e invece non aveva capito no la insomma la situazione si arriva quindi a questo punto nel mese di ottobre in cui si può andare a fare questo scontro diretto perché ormai Khalid è riuscito a sospingere gli avversari verso una zona di dirupi rocciosi e praticamente li costringe alla rotta sconfiggendoli in battaglia lungo l'unica via possibile via di fuga possibile una strettoia in direzione di un ponte costruito dai romani in precedenza è un evento che difficilmente si potrà riprodurre e praticamente con questa grande abilità questa strategia che hanno adottato riescono a manipolare le situazioni a proprio favore e a riportare una vittoria grandiosa su sulla compagine bizantina tanto che ben pochi furono i superstiti che riuscirono a sopravvivere a questo disastro e anzi vengono praticamente tutti fatti prigionieri eraglio che se ne sta bel bello dentro le muri all'antiovia riceve la notizia di questa disfatta e comprende che ormai queste posizioni erano indifendibili caro riccardo perché ha troppe poche persone e quindi che fa prende il resto del suo esercito si ritira prima se ne torna in anatolia e poi se ne va direttamente a costantinopoli c'è un momento in cui no questa parte è pacificata nel senso che hanno conquistato quello che devono conquistare per il momento e se si concentrano su altro dove si concentrano caro riccardo ad andare a disturbare un altro impero un altro impero che non se la passa benissimo che è il famoso impero dei sasaniti no di cui abbiamo parlato già in periodo romano e che non se la passa benissimo perché perché praticamente sono una una dinastia fondata a partire da una aristocrazia militare da cui si è distaccata e che vive praticamente distante sia da quella aristocrazia militare da cui si è elevata ma soprattutto da una popolazione che non li apprezza minimamente c'è proprio una differenza gerarchica sostanziale tra queste tre entità soprattutto perché ovviamente anche insomma nella diastia sasanide predica una religione lo zoroastrismo che è l'unica accettata e che è comandata da una casta sacerdotale che ovviamente va a braccetto con con la dinastia quindi con con i regnanti e che quindi non tiene conto di chi c'è sotto questa cosa fa sì che quando arriva una nuova forza espansiva grosse parti della popolazione passano dalla dalla parte dei insomma degli invasori rendendo molto semplice le cose a a umar tanto che effettivamente riesce praticamente a conquistare tutta la parte occidentale della persia quindi la parte più importante no in un certo senso del dell'impero sasanide dell'impero persiano addirittura entra susa entra città insomma fondamentali di cui abbiamo già parlato no che i romani per tanti anni hanno voluto conquistare ci sono riusciti soltanto poche volte e loro invece ci escono con insomma abbastanza facilità tanto che per esempio tanto che per esempio alla morte di umar questo questa parte è pacificata questo regno è preso questa parte di di regno fa già parte in maniera molto corposa della dei domini arabi ecco però caro riccardo questo ovviamente è un antipasto di quello che poi è la cosa più importante che succede in questo periodo perché una volta sconfitti i bizantini a yarmouk nel 636 c'è una bella distesa spianata per arrivare nel punto che volevano davvero no conquistare gli islamici ovvero gerusalemme perché chiaramente come abbiamo già detto no è una città santa per loro perché c'è innanzitutto dove maometto no è andato a vedere il punto in cui abramo stava celebrando insomma il sacrificio e il sacrificio per dio ma soprattutto perché ovviamente gerusalemme è considerata una grande città anche nel corano nei vari libri scritti da accettati dalla cultura araba come libri sacri e quindi ecco è lì che si dirigono ci si manda ovviamente il buon kalid che in realtà non aveva partecipato invece alla guerra dall'altro lato questa cosa inizialmente gli va contro perché mandano uno insomma uno prezzolato un generale prezzolato che riesce addirittura a perdere no abbiamo parlato che era tutto disteso lì nell'impero sasanite nella realtà dei fatti un generale stava per perdere la guerra poi alla fine un po il generale giusto non kalid un altro insomma una persona però più più preparata ma soprattutto un'epidemia di peste che prese soprattutto le città più importanti della persia portano alla disfatta generale in pratica e quindi alla vittoria di umar invece di qui c'è sempre kalid c'è sempre kalid con questo grosso esercito pronto e dall'altra parte chi c'è c'è il patriarca di gerusalemme sofronio che è un uomo molto colto un grande amministratore civile oltre che un no un uomo di chiesa e tutto quanto che governa la città per per conto dell'imperatore che se ne è scappato no se ne è andato se ne è tornato a casa e e che praticamente da una parte invita a pregare i suoi i suoi cittadini invita alla resistenza invita a a pensare a sperare sempre nelle preghiere che la provvidenza invierà in qualche modo no un aiuto per soccorrere la città però poi capisce che in realtà non arriveranno questi aiuti perché l'imperatore se n'è andato soprattutto neanche un aiuto da parte della chiesa di roma no che aveva a cura il discorso di gerusalemme ma non arriverà neanche da roma perché ovviamente in quel periodo roma sta cercando di venire a patti con i barbari no che che stanno arrivando e quindi capisce che sono lui e quel poco di esercito no di soldati che che gli sono rimasti a gerusalemme e deve attrezzarsi così ci prova per un po ma la fine della primavera del 638 dichiara si dichiara no diciamo desideroso di arrivare a a patti e insomma chiedere delle condizioni per una resa onorevole della città ovviamente alla massima autorità dell'islam che in quel momento è ovviamente il califo umar e lui accetta le sue richieste quali sono queste richieste domanda il rispetto dei diritti dei cristiani e degli ebrei che gli viene subito assicurato da dalla parola del conquistatore e quindi e questa ce l'abbiamo ci sono molti resoconti sulla sulla resa della città tutti pieni di tra di cose simboliche perché comunque questa conquista è una cosa oltre che no politica e militare anche soprattutto simbolica perché si parla di confronti tra religioni innanzitutto la prima cosa che ci viene mostrata è la differenza tra l'opulenza cristiana comunque il patriarca di di gerusalemme che in quanto cristiano è abituato no a pregare comunque a rappresentare dio con con cose ricche anche nelle vesti e tutto quanto di fronte invece alla povertà dei musulmani dell'inizio umar peraltro era perfettamente c'è un esempio perfetto di queste di quelli dell'austerità che il profeta aveva predicato e aveva imposto ai suoi seguaci la stessa identica disciplina lui si portava sempre in giro una frusta perché non si sa mai si dovesse punire qualcuno per i suoi peccati per aver no peccato di superbia e quant'altro aveva soltanto due vestiti uno invernale e uno estivo che cambiava a seconda della stagione dormiva a terra con gli stessi vestiti di cui sopra cioè neanche si cambiava per dormire quindi non era uno abituato agli agi era uno che faceva vivere insomma in maniera no lineare con quello deciso dal profeta pare che al momento dell'incontro indossasse anche un drappo bianco in quanto pellegrino in un certo senso per testimoniare la sua no la sua anche doppia valenza cioè oltre che conquistatore anche in realtà pellegrino in visita una città santa e quindi a un certo punto dopo aver accettato queste richieste dopo aver sessi accordati per la resa patriarca e califo entrano insieme a gerusalemme sovronio quindi porta umar alla chiesa del santo sepolcro e lo invita a pregare insieme umar rifiuta non per perché non lo rispetta ma perché se avesse pregato all'interno della chiesa sarebbe stato letto dai suoi successori come desideroso di costruire una moschea in quel punto quindi cosa fa riccardo prega appena fuori in maniera che su quel punto edificherà una una moschea però per rispetto ai cristiani non distrugge no la la chiesa del santo sepolcro quindi si prende il suo tappeto prega verso la mecca ed è pronto così poi lo porta invece al tempio che è lì il posto dove vuole andare vuole andare nel punto in cui abramo pare avesse sacrificato insomma dovesse sacrificare suo figlio e dove c'è questa impronta del piede che pare fosse quella di maometto è arrivato in visita almeno gli arabi credevano questo su quel punto dopo averlo insomma pulito di tutte le rocce che erano rimaste no le pietre di costruzione del tempio che era stato distrutto dai romani lui per primo ne toglie una parte poi ci pensano tutti i suoi uomini e lì edificherà effettivamente un tempio tanto che in quel punto insomma quel punto lì viene chiamato haram has sharif ovvero il nobile santuario dell'islam e quindi insomma in questo senso gerusalemme è conquistata da qui partiranno e saranno abbastanza facili negli anni successivi le ulteriori conquiste quindi metterà insomma sistemerà tutta la parte a sud tutta la palestina ma poi soprattutto andrà in guerra a prendersi l'egitto caro riccardo il famoso granaio no dell'impero prima era dell'impero romano poi era diventato dell'impero romano d'oriente e lo riesce a conquistare effettivamente in quegli anni lasceremo questi discorsi per le puntate successive in cui affronteremo la zona africana però insomma alla fine della conquista del buon umar tutta questa grande parte insomma tutta la parte medio orientale fino praticamente all'iran e l'egitto sono sotto il controllo degli arabi della umma diciamo sono parte della umma il successore il buono utman continuerà quest'opera soprattutto est conquista tutta quella parte che gli mancava della persia tanto da arrivare praticamente all'india caro riccardo no insomma a quei territori che conosciamo tutti perché ci abbiamo ci siamo passati varie volte nei nostri racconti no del bar quindi utman si va a prendere tutta quella zona lì e anche a consolidare in realtà la parte africana perché perché nel frattempo comunque era stato un territorio di scontro perché i bizantini comunque non rimangono a guardare ecco però in un certo senso insomma sono voluto ho voluto centrare no la conquista di questa prima fase con con gerusalemme perché è chiaramente in un certo senso la la più la più importante conquista fatta in questo periodo conquistano la città santa la seconda città santa ovviamente per loro dopo dopo la mecca e insomma centrare su questo per poi parlare un po più un po più in generale delle conquiste successive ecco e poi che fa finisce così no si calveranno i ragazzi no e no è lunghissimo ancora è una maratona costa non è una uno sprint è una bella maratona che peraltro non si esaurirà neanche con la nostra serie perché comunque andrà molto avanti e magari ne tratteremo anche in altre serie future però per restare a noi la dinastia omaiade è quella che viene fondata da muawiyah vi ricordate avevo detto no che c'era stato quest'ultimo scontro ecco muawiyah viene eletto viene il nuovo califo e sarà il primo di questa nuova dinastia che sposta la capitale a damasco un passaggio formale importante perché perché il centro dell'impero in questo modo si spostava dalla penisola araba alla siria cosa che causò una crescente influenza persiana anche nei costumi arabi perché tutta questa morigeratezza no costa che tu un po ci hai descritto tutta questa diversità piano piano si andrà perdendo e sarà a mio modo di vedere quasi completamente cancellata da un certo punto in più dall'opulenza anzi di questi futuri califati che insomma vedremo anche successivamente comunque gli omaiadi non si fermano affatto alla siria se ve lo stavate domandando dirigono le loro forze attraverso il magreb nel nord africa e prima della fine del settimo dell'ottavo secolo arriveranno alla costa atlantica del marocco stiamo parlando di pochissimi anni di distanza da maometto per riportare le cose no in quanto è stata fulminea questa espansione gli arabi arrivano in questo caso fino in spagna a occidente nel nord ovest dell'india come c'è detto anche tu costa un impero gigantesco che ovviamente non era più governabile come un gruppo di comunità religiose dell'arabia ma che doveva per forza avere un'organizzazione diversa divennero sempre più importanti infatti cerimoniali che prendevano spunto proprio da quelli persiani o bizantini e fu necessario costruire un esercito di professione bisognava formare una classe dirigente alberto curani che è l'autore del libro che vi ho sconsigliato la volta scorsa la storia dei popoli arabi che insomma vi riconsiglio se se non avete diciamo avuto modo di sentirlo nella scorsa puntata fa un paragone molto interessante che vi voglio citare letteralmente perché secondo me è interessante per questo e per altri aspetti gli omaiadi potrebbero sembrare simili ai re barbarici dell'impero romano d'occidente inquieti colonizzatori di un mondo alieno la cui vita continuava sotto la protezione del loro potere vi era però una differenza all'ovest i dominatori avevano recato con sé ben poco di loro in grado di reggere il confronto con la forza della civiltà latina cristiana in cui finirono per integrarsi il gruppo dominante arabo portò con sé qualcosa destinato ad essere conservato anche in mezzo all'elevata cultura del vicino oriente e che modificato e sviluppato la tale cultura avrebbe fornito un idioma particolare attraverso il quale continuare d'orina avanti ad esprimersi non sorprende infatti come abbiamo detto più volte in passato che l'arabo diventa la lingua del potere cioè quella lingua che devi sapere assolutamente se vuoi fare carriera se vuoi in qualche modo emergere all'interno di questo nuovo potere vengono costruite moschea importanti infrastrutture insomma tanto della religione della cultura viene esportato e sì si integra e cambia sicuramente con le influenze orientali ma non viene sostituito in blocco molti dei costumi vengono portati come sono dall'arabia lo scontro fra vecchio e nuovo islam si concretizza quando muore muawiyah il califo nel 680 che designa il figlio come suo erede ma con la contrarietà della fazione di medina vi ricordate sempre quelle fazioni che avevo detto all'inizio che in questo assetto orientato verso oriente quindi verso la siria verso damasco era diventato sempre più marginale e quindi cosa fa decide di ribellarsi e di proclamare un altro califo che riesce a rimanere in carica in rivolta per circa una decina d'anni fino a quando abd al malik il nuovo califo omayyade non riuscì a riprendere il potere abd al malik è un altro grande personaggio dell'islam perché fu quello che ordinò effettivamente l'utilizzo dell'arabo in tutti i documenti amministrativi coniò una nuova moneta islamica sappiamo da un punto di vista simbolico e non solo quanto è importante quando un regno un impero un potere arriva coniò una nuova moneta di fatto significa ufficializzare il fatto che sì sono io che comando fondamentalmente riportavano peraltro delle citazioni coraniche insomma ricominciava anche a sistemare un po il corano nelle monete quindi insomma era era anche un modo per affermare il fatto che il corano è divenuto importante quindi doveva essere in qualche modo esportato proprio tramite le monete e riorganizzò l'esercito per renderlo più adatto al nuovo stato gli omayyadi quindi diventano importantissimi e costruiscono come abbiamo detto appunto non solo moschee ma anche residenze appariscenti che pensate si chiamavano proprio castelli del deserto e proprio per affermare il loro potere e per dire a tutti che come diremmo con un'espressione contemporanea c'è un nuovo capo in città no c'è qualcuno che comanda risultato ci furono tantissime conversioni l'arabo si diffuse enormemente e fino al 750 gli omayyadi furono una forza praticamente inarrestabile che arrivò a conquistare come abbiamo detto persino la spagna arrivandosi a scontrare addirittura con i franchi a puatia nel 732 ne parleremo insomma più avanti adesso non mi soffermo troppo perché parleremo di diverse diverse aree geografiche che sto toccando velocemente più in dettaglio nelle prossime montate gli omayyadi comunque cadono cadono nel 750 a seguito di una serie di rivolte che ci diciamo dice un pochino meglio ci dice un pochino meglio tu costa dopo però erano scoppiare diciamo l'ultima tre anni prima perché era scoppiata questa rivolta avete presente che vi ho detto che molta gente si convertiva all'islam ovviamente conveniva no si poteva accedere al potere si imparava l'arabo e tutto questo ma ovviamente pensate che i vecchi centri di potere lasciassero il posto a tutti questi nuovi convertiti così facilmente ma neanche per sogno ovviamente i nuovi convertiti non arabi quindi i nordafricani i persiani i siriani tutte queste persone qui erano convertiti all'islam ma non erano arabi tecnicamente e quindi continuavano ad essere esclusi dal potere solo perché non erano arabi in uno stato che invece predicava l'eguaglianza fra tutti i musulmani e che si vedeva sempre più espanso e sempre più sbilanciato al di fuori della penisola araba tutta questa gente si chiamava mauali e in alcune regioni erano veramente tantissimi e iniziavano ad alzare la voce nel cura san più o meno dalle parti dell'ordineo in afghanistan proprio nel 750 questa voce si fa più grossa in particolare in uno in quella di uno schiavo poi stalliere di cufa che si chiamava abu muslim e che cosa fa da grossi grattacapi a le forze omaiadi e finisce per conquistare una regione importante la regione del cura san che sarà una chiave in tutta quella ribellione che porterà appunto alla proclamazione di un nuovo califo al safa discendente di al abbas che era uno zio di maometto l'ultimo califo omaiade muore ucciso insieme a tutta la sua famiglia ma come nei migliori film ne sopravvive uno che si chiama abd al rahman ibn muawiyah i nomi sono abbastanza lunghi dei califi spesso quindi insomma dovete avere pazienza che si rifuggerà a cordoba quindi in spagna dove formerà un emirato un emirato molto importante che noi vedremo più avanti e che riuscirà a sfuggire agli abbassiti che saranno appunto i nuovi califi ma sia di lui di lui che degli abbassiti parleremo nelle prossime puntate facciamo però adesso costa un passo indietro per vedere un po tutta questa caduta no tutte queste ribellioni come hanno avuto luogo allora riccardo devo dire che è un vespaio perché ce ne sono diverse che non solo inizialmente non collaborano tra di loro anzi spesso e volentieri si si vogliono discretamente male però diciamo che alcune di queste le più importanti o comunque le i promotori delle più importanti a un certo punto si uniscono tutte insieme all'interno di quella che viene chiamata no la rivolta la rivoluzione a basi a basi a basite o a basite lo scopriremo quando ce lo dirà qualcuno migliore di noi caro riccardo noi rimaniamo un po così allora perché vi dico questo perché ovviamente è questa rivoluzione in realtà dura no in totale una una ventina d'anni in linea generale però in realtà cioè parte da prima le radici affondano da ben prima perché perché uniscono più di una idea ovvero innanzitutto ci sono gli irridentisti mi viene da dire no alidi chi sono caro riccardo ali il buon ali no di cui abbiamo parlato insomma a un certo punto erano stati fatti fuori i suoi seguaci insomma i seguaci di ali erano stati fatti fuori all'interno di una battaglia chiamata battaglia di carbala o curbala e soprattutto era stato massacrato il nipote di maometto in questa battaglia e già da questa cosa insomma nel 680 erano iniziate varie rivolte a nome no della famiglia di ali quindi in un certo senso alla famiglia del profeta perché comunque era il nipote e questa cosa viene in realtà poi sfruttata da un po tutti quei movimenti di resistenza agli omaiati che nascevano un po in tutto il regno islamico e veniva utilizzata addirittura come da questi alidi come grido di battaglia cioè veniva insomma la memoria di questa battaglia veniva utilizzata come un vero e proprio grido di battaglia per la rivoluzione contro contro i califi ci sono poi effettivamente gli abbasiti no che lo vanno utilizzare poi questa memoria successivamente quando sarà il loro momento dopo questa situazione prendendo spunto da questa situazione un movimento fu molto importante a per portare sempre di più la rivolta all'interno del regno arabo il movimento della asci miglia e che praticamente è quella che va a mettere un po in giro no zizzagna comunque va a far nascere va a accendere la miccia per per far per far scoppiare le rivoluzioni e effettivamente la troviamo un po tutti e soprattutto saranno i veri e propri no responsabili di questi sforzi finali contro la dinastia del del degli omaiati inizialmente con lo scopo di riportare no sul sul trono la dinastia alide quindi quella direttamente discendente dal profeta però insomma non è tutto così semplice perché che succede perché a un certo punto gran parte in realtà dei rivoltosi sono le genti come hai detto uno dei musulmani ma non arabe quindi non discendenti direttamente da insomma dalla penisola arabica o comunque dalle popolazioni arabe e che erano rimaste cittadini di serie b benché si predicasse no la predicazione comunque dell'islam è che tutti gli islami tutti gli arabi tutti tutti i musulmani sono uguali in realtà non era vero perché tutti quelli che c'erano diventati dopo che hanno scelto di diventarci dopo non erano non arrivavano mai a posizioni di rilievo non erano mai insomma rappresentati all'interno comunque dei governi e quant'altro in più caro riccardo una volta conquistata la persia non si lasciò libertà di esprimere questa no cultura persiana che comunque era predominante in quel periodo anzi si insomma si dice che ci sia questo governatore omaiade alajaj ibn yusuf che era sconvolto dall'utilizzo del persiano come lingua nei tribunali e quindi ordina che ogni scritto e parlato persiano dovesse essere soppresso sia nel governo che il grande pubblico anche con la forza se necessario e quindi si dice che lui stesso abbia contribuito no alla scomparsa della lingua corasmia che era una lingua molto vicina al persiano che per colpa anche magari delle sue decisioni andò scomparendo quando poi l'espansione degli omaiadi arriva anche no in in asia centrale alajaj ordina le esecuzioni di tutti quelli che sapevano leggere o scrivere la lingua tanto che solo gli anilfabeti rimasero in vita quindi comunque c'era no un un tentativo di instaurare una cultura araba al posto di quella precedente e questo non può che portare malcontento tutti queste tutti questi no spiriti di di ribellione vanno a compimento tra il 720 e poi il 750 perché perché la scimia a un certo punto si inizia ad espandere dalla propria zona quindi nel 719 arriva proprio nel cura san e faceva un proleselitismo vero e proprio insomma cercando il sostegno delle popolazioni per elevare un membro della casa del profeta che sarà gradito a tutti senza fare menzione di chi infatti successivamente verranno verrà sostituito insomma l'idea degli alidi verrà sostituita poi dagli abbasidi questa missione prende sia arabi che i mauali quindi insomma i musulmani non arabi però questi ultimi furono quelli che maggiormente portarono alla crescita del movimento quindi iniziano diverse ribellioni prima i casaniti la scimia gli alidi in genere e si verificano in tutti gli ultimi l'ultimo periodo soprattutto dopo quelle che vengono chiamate la seconda guerra civile islamica e la terza di cui abbiamo parlato poco ma insomma vi abbiamo un po raccontato il centro di questo movimento di questo movimento di opposizione era cufa che era una città no del nel cura san che andava proprio contro gli omaiati soprattutto grazie ai sostenitori di ali e qui proprio nel 741 nel 742 abu muslim che è quell'uomo di cui abbiamo parlato ebbe il primo contatto con tutti quegli agenti abbasidi precedenti che non avevano avuto grande successo invece lui era stato presentato al principale rappresentante degli abbasidi che era ibrahim alla mecca quindi nel 746 abu muslim diventa in cura san il capo della scimia a differenza delle delle rivolte precedenti gli abbasidi e gli alleati della scimia cominciano a costruire lentamente un movimento di resistenza clandestina fu questo il loro successo la segretezza girano un po no come le società segrete di cui abbiamo parlato in precedenza quindi non manifestando apertamente il loro dissenso almeno inizialmente ovviamente fin quando non si sentirono abbastanza forti da procedere e quindi cominciarono a insomma a riscontrare un po tutte le tutte le pregolative che servono per una rivoluzione di successo soprattutto perché agirono in quasi concomitanza con altre rivolte tipo la rivolta zaidita in Iraq ma la grande rivolta dei berberi una rivolta in spagna addirittura nel magreb con addirittura l'insorgere di delle tribù in Yemen nell'Iyaz quindi nei territori arabi veri e propri e quindi a questo punto è tutto pronto insomma è tutto pronto per andare a ad approfittare di questo movimento del califato magliate tanto che insomma outing che è uno storico ha affermato che anche se i governanti o magliati fossero stati a conoscenza no di questa di questo loro tentativo di questa rivoluzione rivolta interna non avrebbero potuto mobilitarsi contro di loro perché erano troppo impegnati ovunque a cercare di contrastare le varie rivolte la prima rivolta che inizia nel cura san è quella del 746 fatta da i ben surai che inizia la sua rivolta nella città di merv in un primo tempo senza successo poi riunisce le forze con altre fazioni ribelli e si scontra con l'olio magliati a nishapur però quella insomma subisce una sconfitta a questo punto però c'è il curasano occidentale che è controllato da abdallah i ben muawiyah che taglia fuori insomma il governatore della città che si chiama i ben sayar da marwan secondo dal califo ad oriente e quindi ben sayar nell'estate del 747 è costretto a chiedere la pace che viene accettata da tutto il restante dei ribelli da tutti i restanti ribelli succede però che il capo dei ribelli viene assassinato per vendetta dal figlio di ben surai che evidentemente non voleva cedere no alla alla rivolta insomma alla la cosa alla pace e nello stesso tempo scoppia un'altra rivolta nei villaggi alla fine però si risolve con un nulla di fatto e insomma si si firma un accordo di pace e i ben sayar ritorna a merv nell'agosto del 747 però che succede che nel frattempo due mesi prima era iniziata un'altra rivolta perché il 9 giugno del 747 che è il 25 ramadan del 129 secondo il calendario musulmano abu muslim inizia un'aperta rivolta contro gli omaiati che fu portata avanti sotto il segno dello stendardo nero che era quello che aveva già utilizzato i ben surai aveva circa 10.000 uomini e quando ufficialmente iniziano le stilità nella città proprio di merv il 14 febbraio del 748 riesce a porre sotto il suo controllo merv espellendo questo governatore i ben sayar meno di un anno dopo che ci aveva insomma che aveva messo fino alla rivolta e invia un poteroso esercito verso occidente nel frattempo è arrivato un ufficiale insomma abbaside che insegue invece i ben sayar a nishapur e poi più ad ovest verso nella verso la persia occidentale nel mese d'agosto insomma c'è un combattimento tra le forze abbasidi e abbaside e quella omaiade a gorgan in cui i primi vincono quindi a questo punto i ben sayar si unisce al califo però niente riesce è costretto di nuovo a fuggire e anzi muore il 9 dicembre del 748 nel tentativo di raggiungere un'altra città a questo punto al tai se ne avanza ancora superando il cura san e a verso ovest e sconfigge una forza di 50.000 uomini a dishafanna siamo nel marzo del 749 la guerra c'è l'ultima opposizione si inizia diciamo no a perdere poi a navand c'è la l'ultima resistenza omaiade nel cura san ma perdono e e a quel punto si può andare avanti perché riccardo ovviamente non è che si fermano così ovviamente allo stesso tempo abu muslim se n'è andato verso est andando a rafforzare la posizione degli abbasidi sui musulmani dell'oriente e infatti in transoxiana e in battriana che sono i territori più a est territori che abbiamo già conosciuto si mettono governatori abbasidi si nominano governatori abbasidi e praticamente abu muslim poi va a offrire degli accordi di pace a quei ribelli che si erano poi accordati no con in con il con il governo omaiade a quel punto praticamente gli abbasidi sono i padroni di cura san e di tutti quei territori a est la battaglia si sposta in mesopotamia perché ovviamente non è che perdono tempo e se ne rimangono in cura san vanno in mesopotamia cercano insomma i yomaiadi cercano di di rispondere alle forze degli abbasidi ma non ci riescono infatti insomma nonostante altai che il generale di abbaside viene ucciso in battaglia durante il raid al fazari che è questo generale degli yomaiadi fu costretto a fuggire insomma verso ovest nella città di huasit dove c'è un assedio l'assedio che dura da agosto del 749 a luglio del 750 quindi un anno e però alla fine insomma finisce con la vittoria degli abbasidi nonostante avessero perso un grande generale praticamente avevano intrappolato una grande forza degli yomaiadi in questa in questa città e quindi loro potevano fare quello che volevano praticamente attraversano le ufrate e se ne vanno a prendere se ne vanno a prendere cufa poi continuano ad andare avanti ad andare avanti fin quando nell'aprile del 750 catturano prendono damasco la capitale degli yomaiadi marwan secondo il califo e la sua famiglia vengono rintracciati e vengono uccisi in egitto awasit ovviamente al fazari come detto resiste fino a luglio e anzi gli abbasidi a un certo punto gli promettono l'amnistia quindi lui esce invece lo uccidono e comunque dopo quasi tre anni di ribellione il califato degli yomaiadi era definitivamente battuto a parte no quello che se n'è andato in spagna e ha fatto quello che ha fatto e che vedremo poi nella prossima nella prossima puntata quali sono state le le armi che hanno utilizzato innanzitutto l'uguaglianza etnica perché perché gli abbasidi fanno vedere che il loro obiettivo il loro progetto è segnare gli abitanti di una data zona non dalla tribù di provenienza ma dalla residenza e quindi essenzialmente pongono in uguali tutti gli arabi tutti i musulmani scusate dobbiamo cominciare a distinguere caro riccardo mi perdo sempre però comunque tutti i musulmani sulla via della seta soprattutto perché comunque di quel per di quel di quel territorio si sta parlando non tanto per da dove nascono ma dal fatto che sono musulmani e soprattutto dove abitano quindi un'uguaglianza etnica e anche di ditto ovviamente la propaganda con cui negli anni hanno alimentato questa rivolta fin quando insomma sono riusciti a farla esplodere e ovviamente la segretezza la segretezza con cui a un certo punto quando è esplosa la vera rivolta gli omaiati non sapevano nemmeno da dove si stesse cominciando vuoi vuoi un piccolo appunto nei cinque anni successivi uccidono sono tutti gli omaiati su cui mettono mettono mani ma soprattutto ma soprattutto vanno ad ammazzare anche tutti quelli che gli avevano dato una mano cioè gli alleati diventano nemici il povero abu muslim per esempio fu accusato di eresia e di tradimento e venne giustiziato del palazzo nonostante avesse ricordato a questo califo che si chiama al mansur è il secondo califo dell'anestia abbasile che era stato lui ad aver portato al potere gli abbasiti con la sua azione e invece niente non funziona così tanto la gratitudine non esiste ma poi addirittura furono furono insomma anche colpiti gli sciiti che erano stati insomma la corrente araba che più li aveva aiutati diciamo che gli abbasiti non riconoscono chi gli è stato amico una volta vinto mettiamola così sì sì la storia sarà ancora molto molto lunga nei prossimi anni sì sì assolutamente e la vedremo nelle prossime puntate allora direi che insomma oggi vi abbiamo dato un po una panoramica era importante volevamo concentrarsi insomma solamente su alcuni luoghi importanti ma insomma questa fase è fondamentale per capire tante cose del periodo che seguirà quindi dai siamo riusciti a rimanere comunque nella zona del medio oriente certo certo abbiamo in parte fatto il nostro lavoro caro riccardo ma nelle prossime puntate andremo un po più a fondo ad esplorare altri luoghi molto interessanti allora andiamo come al solito a qualcosa che si può consigliare di interessante da da leggere io l'altra volta vi ho consigliato un mattone quindi per compensare vi consiglio un libro molto piccolo questa volta che si chiama l'islam nel medioevo di alain ducellier e françois michaud credo si pronunci michaud lo diciamo all'italiana dai michaud immagino sì esatto che sono insomma due professori uno dell'università di dolosa l'altro della sorbona un libro molto snello come vi dicevo saranno 200 pagine ma insomma bibliografia e glossario incluse quindi 170 pagine molto bello molto completo che vi dà un'idea di tutto quello che è successo praticamente da maometto fino a di fatto tutta la parte medievale quindi arriviamo se non sbaglio fino alla caduta di di costantinopoli fondamentalmente è molto bello anche perché non dà solamente un quadro storico ma anche di società di cultura fa dei paragoni spiega insomma il perché la religione islamica non è stata affatto diciamo un freno al progresso ma in alcuni casi è stata anche molto utile per esplorare insomma molte delle scienze di cui abbiamo anche parlato in altre puntate molto bello molto interessante ve lo consiglio uno dei libri che ha forgiato diciamo la mia passione per per questo argomento allora invece io ve ne propongo due di uno ho letto soltanto degli estratti ovviamente di un altro ho letto le cose che ci interessavano questo qui è si chiama crociata e jihad origini storie e conseguenze ed è di malcolm lambert che è stato insomma insegnante di teologia e storia medievale all'università di bristol molto interessante questo è soprattutto per la prima parte perché ovviamente parla dell'espansione araba no dei dei ragazzi dei primi quattro califi soprattutto perché deve un po spiegare poi com'è che si arriva no a al discorso delle crociate che è successivo invece per quanto riguarda il discorso sulla rivoluzione degli abbasidi ho letto degli estratti da un libro purtroppo l'ho trovato soltanto in inglese che si chiama the prophet and the age of califates di hug kennedy e insomma l'ho trovato molto interessante le parti che ho letto mi sono state molto d'aiuto bene bene ottimo quindi insomma andate a recuperare queste fonti magari ricominciamo a metterle anche su telegram costa perché siamo state un po sgridati che ci siamo dimenticati siamo delle persone siamo delle persone orrende caro riccardo va bene va bene allora io vi ringrazio ancora una volta vi ricordo insomma di seguirci su tutti i nostri canali spotify apple podcast pagina facebook instagram eccetera 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 ormai li conoscete continueremo con la prossima serie appunto alla fine di questo mese andando un po avanti nello scoprire delle cose interessanti dell'islam medievale quindi restate con noi vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia come la birra non annoia non annoia mai mai